Il convegno che oggi ci facciamo qui a Prato serve proprio per provare a rimettere al centro del dibattito e soprattutto delle decisioni l'importanza delle infrastrutture ad oggi ancora ferme, dall'alta velocità all'aeroporto, compresa anche la gara del TPL che è importantissima di fondamentale importanza per tutta la regione per il trasporto su gomma dei cittadini, così come anche tutte le problematiche della parte stradale. La UIL e la UIL Trasporti e la Fenea l'UIL oggi organizzano questo convegno per lanciare anche un allarme perché tutte queste opere di cui spesso non si vede la fine, chiaramente per quanto ci riguarda significano minore occupazione, mancato sviluppo che poi purtroppo si ripercuote sulla vita quotidiana togliendo possibilità ai nostri cittadini lavoratori. Perché in un mondo globalizzato è chiaro che l'infrastruttura non è un'opera a fine a se stessa, ma le infrastrutture servono a connettere sia le zone interne della Toscana con il centro, ma anche la stessa Toscana con l'Europa. Noi per esempio abbiamo visto tutta la vicenda della Via della Seta, che è un'operazione importantissima, ma se non c'è il terzo valico e quindi la connessione Torino-Lione si interrompe. Dovremmo decidere se vogliamo essere una società aperta e quindi connessa e quindi con le infrastrutture o tornare ai confini, ma anche in questo caso noi dovremmo connettere l'Italia tutti insieme. Il problema del viadotto che si è creato sull'E45 è la dimostrazione che c'è qualcosa che non funziona nella politica, perché il viadotto interrotto taglia a metà l'Italia, non considerandolo un interesse nazionale un errore fondamentale che sta facendo questo governo.